Ciao, sono la dottoressa Rossella Paolucci. Oggi voglio parlarti di dolore mestruale, quel dolore costante e duraturo che accompagna il ciclo mestruale e in alcuni casi può presentarsi anche qualche giorno prima. Crampi, fitte dolorose e spasmi possono essere più o meno intensi, in alcune donne sono solo lieve fastidio, in altre invece possono addirittura limitare le attività quotidiane. In questo video voglio consigliarti alcuni rimedi come ad esempio il magnesio, utile anche nella fase premestruale per combattere quella sensazione di stanchezza, irritabilità, gonfiore, ritenzione idrica. In generale l'alimentazione può aiutare, infatti è bene durante il ciclo mestruale evitare il consumo di latticini che possono interferire con l'equilibrio di calcio e di conseguenza con quello di magnesio. Un rimedio utile alla portata di tutti è anche la borsa dell'acqua calda nel cui calore può aiutare a distendere la parte addominale. In generale l'attività fisica durante il ciclo mestruale può aiutare, in quanto gli esercizi di stretching possono aiutare a distendere la parte addominale. Ad esempio la posizione a farfalla stando sedute con la schiena dritta e i piedi a contatto tra di loro può essere un valido aiuto. Puoi effettuare anche un automassaggio con dei movimenti circolari al di sotto dell'ombelico e spostandoti verso la zona dei fianchi, anche utilizzando un olio essenziale a base di timo che aiuta a distendere la muscolatura addominale. Utile in questi casi anche il consumo di tisane a base di lavanda e camomilla. In generale i dolori mestruali possono anche verificarsi anche senza ciclo, come nel caso di una gravidanza. All'inizio di una gravidanza infatti a causa dello scompiglio ormonale possono comparire questi dolori simili a quelli mestruali. In generale sono normali ma nel caso dovessero intensificarsi, acutizzarsi e protendersi nel tempo è bene contattare il ginecologo. Così come dolori mestruali anche senza ciclo possono verificarsi in menopausa a causa dell'attività che va via via esaurendosi delle ovaie oppure in caso di ciste ovariche, stitichezza. In questo caso è bene contattare uno specialista. Se il video ti è piaciuto condividilo con le tue amiche. Grazie, a presto! Grazie!